La preparatoria non è solo attività didattica e laboratorio, è anche uno spazio di convivenza, uno spazio di gioco, di scoperta di luoghi di vita, è uno spazio di festa, da condividere con la comunità, come è il caso della consegna dei diplomi a fine anno scolastico, è uno spazio di cura del territorio, ma è anche un luogo di pensiero su temi importanti, i sequestri forzati, l'estrazione mineraria, l'invasione dei parchi eolici o i conflitti territoriali su cui gli studenti riflettono e prendono posizione, le installazioni della preparatoria diventano luogo aperto alla discussione di tutta la comunità, così l'attività scolastica diventa occasione di approfondimento, che può svilupparsi anche in luoghi diversi, comprese le vicine comunità e quindi grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!